Un'interrogazione per sapere a che punto è il documento di strategia predisposto dal distretto tecnologico Fortis. Come sapete in Toscana abbiamo 12 distretti e Fortis è un acronimo che sta per fotonica, optoelettronica e robotica. È un tema che abbiamo trattato nella Commissione Costa, che è la commissione che si occupa dell'emergenza occupazionale nelle zone delle isole e della costa toscana e quindi è opportuno al più presto fare luce su questo distretto industriale affinché lavori nelle migliori condizioni possibili.